Buonasera, allora qui il collegamento di oggi a due settimane dall'ultimo incontro si svolge fra Parigi e Bari e vi chiamo naturalmente le facili battute insomma eh fin troppo scontate cerchiamo invece di non essere scontati vediamo qui chi si trova alla mia destra chi c'è? Io sono Olimpia Imperio e insegno letteratura greca nell'università Aldomoro di Bari. Ecco sì quindi abbiamo abbiamo una eh grecista grecista poi suona funziona anche bene perché eh chiaramente grecista docente di letteratura greca come è stato indicato nella nella locandina permette di evitare quei problemi così che si avrebbero con professore, professora, professoressa che in questo momento stanno occupando il l'opinione pubblica l'ennesima l'ennesima arma di distrazione di massa e oggi eh in questa mezz'ora eh che ci eh hanno munificamente concesso eh gli amici di la terza parleremo di teatro nella fattispecie teatro greco e quindi faremo una sorta di diciamo di rappresentazione condensata passando passando dalla tragedia alla eh commedia e lasceremo ad altri il dramma satiresco perché tutto sommato non è non è cosa nostra per cui Olimpia eh eh fratto sono anche molto contento perché eh vedo che c'è siccome mi accusano sempre di avere una libreria disordinata qui vedo invece che è una casa micciola quindi siamo non avete visto non avete visto la scrivania che è molto peggio riusciamo a inquadrarla insomma e quindi sia io che non sia la lontra che potete vedere qui mi hanno chiesto che che animale fosse è una lontra possiamo eh voglio dirci soddisfatti allora oggi avete visto nella locandina Ficarra e Picone insomma una una rappresentazione che è piaciuta a tutti anche a quelli che di solito non non si occupano molto di eh teatro greco però nel nostro titolo a abbiamo parlato anche di Antigone che è un altro un altro argomento a chiappa like perché diciamo magari anche quelli che non sanno molto di teatro greco però sono molto così contenti di sapere chi eh chi è Antigone e eh eh questo e poi poi naturalmente ne approfittiamo anche perché come quello che si dice di solito insomma l'otto marzo si festeggia tutti i giorni quindi oggi è il nove marzo e quindi possiamo festeggiare Antigone se vogliamo che eh a volte insomma viene presentata come un'icona femminista che allora eh io passo subito la parola a a qualcuno che ne sa veramente di teatro greco io non ne so molto e quindi questa è un'occasione per evitare di fare mansplaining e cerchiamo di capire insomma perché Antigone piace così tanto a un pubblico colto o diversamente colto. Beh Antigone piace così tanto perché la sua vicenda personale è emblematica di una storia di ribellione, ribellione contro il potere, insubordinazione contro quello che sembra essere il tiranno e peraltro è una donna quindi è doppiamente ribelle nel senso che è eh appunto una persona insubordinata nei confronti del potere peraltro che si ribella anche alle regole diciamo del del genere femminile, alle regole della vita di una donna nell'antichità e non solo che in genere è remissiva, recessiva rispetto all'autorità non solo dell'uomo di potere ma del maschio in generale e quindi già questo fa di Antigone un'icona diciamo del del femminismo a a torto ragione, a torto ragione. Non solo del femminismo perché eh nemmeno un anno fa eh un un personaggio insomma pubblico che passa per il filosofo italiano vivente più noto all'estero come si chiama eh sì Agamben e lì avere in uno dei suoi interventi eh a proposito della pandemia insomma che hanno destato scalpore e si era chiesto come abbiamo potuto accettare soltanto in nome di un rischio che non era possibile precisare che le persone che ci sono care degli esseri umani in generale non soltanto morissero da soli ma che cosa che non era mai avvenuta prima nella storia da Antigone a oggi che i loro cadaveri fossero bruciati senza un funerale da cui si evince che anzitutto eh Antigone è un personaggio storico e che eh teoricamente eh insomma ci fosse stato sempre questo funerale da eh dal eh insomma dall'epoca di Antigone fino a quello della pandemia. Eh vogliamo cercare di precisare un po' questo questo intervento eh che mi lascia qualche perplessità. Beh sì è una così è un richiamo è una suggestione fortemente idealizzata rispetto al personaggio di Antigone perché eh diciamo il personaggio di Antigone è molto meno monolitico eh di quello che insomma in genere la la anche la la tradizione ci 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 fa ci fa pensare che quello che si si insegna a scuola quello che si dice di lei quando si legge quando si legge questa tragedia. È meno monolitico, meno sofocleo di quello che in genere si crede no? Si dice che in genere i personaggi di sofocle sono appunto protagonisti assoluti della scena e sono eh diciamo tetragoni nelle loro certezze. Beh Antigone non è proprio così monolitica come come si crede come non lo è neanche Creonte perché eh è vero che Antigone muore mhm per onorare la memoria del fratello Polinice che eh Creonte il re di Tebe ha lasciato in sepolto ma è anche vero che Creonte il re di Tebe ha lasciato in sepolto Polinice perché Polinice ha recato guerra alla sua città, ha armato il popolo di Argo e l'ha portato non solo contro il suo teocle ma anche contro tutto il popolo di Tebe. Di questo Antigone diciamo non parla o mette questo dettaglio come in genere fanno tutti diciamo nel bene o nel male tutti i rivoluzionari, tutti i ribelli, cioè rimuovono la causa prima del conflitto. Ma Antigone non è tetragona, non è monolitica perché lei stessa a parte che vacilla come è ovvio che sia appunto quando è posta di fronte al dilemma se vivere o morire ma lei vacilla anche rispetto a un altro problema cioè al dilemma parentale cioè Antigone è vero che muore va fino in fondo resta ferma nella sua appunto nella nella sua posizione non si piega a Creonte ma in uno dei dei momenti appunto di tentennamento che sono tipici poi del del dilemma tragico lei si pone una domanda cioè dice ma o meglio fa una riflessione insomma in uno dei momenti di debolezza che ha ineritabili e cioè dice se io avessi un marito e dovessi rinunciare alla mia vita per un marito forse non lo farei perché un marito di mariti se ne possono avere altri e quello che diciamo dalle nostre parti al sud si dice il sangue scritto i mariti sono sangue scritto e quindi morto un marito se ne fa un altro ma c'è di peggio Antigone in maniera ancora più cinica se vogliamo dice se io se si trattasse di un figlio probabilmente io potrei avere altri figli ma il problema è che si tratta di un fratello e siccome i miei genitori sono morti perché sia giocassa che edipo sono morti io non posso avere un altro fratello e quindi per il fratello io sono disposta a morire questo dilemma parentale che ha un che di cinico diciamo non ce lo nascondiamo diciamo ha fatto arrobellare gli studiosi che si sono chiesti come è possibile addirittura si è ipotizzato che questo che questa riflessione questa porzione di testo fosse interpolata non fosse autentica perché ci si è chiesti come appunto come mai una donna che è animata da così nobili sentimenti si ponga questo quesito e metta sul piatto della bilancia la natura del rapporto parentale che ha con Polinice se fosse un marito fa niente mi risparmierei la vita se fosse un figlio persino un figlio me la risparmierei la vita pensate quanto è paradossale questa affermazione ma per un fratello no perché un fratello non si può soppiantare tanto più se i genitori sono morti e questa è su questo ci si è molto interrogati in realtà non nessuno è mai riuscito a dare una risposta l'unica risposta che si riesce a dare anche mettendo a confronto questo passo con un altro famoso passo del terzo libro delle storie di erodoto in cui c'è la moglie di Intaferne Intaferne è uno dei di quelli che si pensa abbiano congiurato contro Dario il re di Persia fa lo stesso discorso cioè praticamente dice che appunto si può rinunciare a onorarlo non cosa che non si può fare se si tratta di un fratello ora qual è il punto scusa se ti interrompo però scome abbiamo anche altre carne a fuoco da indicare la questione è che in effetti tutto questo ci spiega fin dall'inizio un problema evidente che noi abbiamo di fronte qualcosa che non può essere ridotto in pillole cioè Antigone non può diventare un luogo comune perché dietro questo c'è un mondo un mondo particolarmente complicato e che sicuramente agli ateniesi aveva cose da dire che a noi certamente non può dire più e a questo e a questo proposito ecco io ho sentito poco fa mentre mentre spiegavi giustamente questi questi problemi e con grande piacere ti ho sentito pronunciare edipo perché lì diciamolo il cultore di storia romana che è in me è molto felice perché anzitutto perché si rispetta rispetta come di giusto l'accento latino ma anche perché in qualche maniera questo può anche creare una sorta di linea di demarcazione fra il mondo classico come lo vedono i classicisti e il mondo classico come lo vedono i non classicisti cerchiamo di farli riunire e passiamo all'altro personaggio interessante che a questo punto noi chiameremo Dioniso sì certo Dioniso Dioniso comico naturalmente noi parliamo di Dioniso qualcuno che dirà ma io ho sempre sentito dire Dioniso e allora in questo punto c'è il Rocco Schiavone che è in me che lo porterà a rispondere in modo in urbano ma siccome qui insomma è il 9 marzo si festeggia l'8 marzo ancora una volta ci sono delle signore non lo dirò ma lo penso molto forte sì devo dire che però nel caso di come nel caso di edipo edipo anche nel caso di Dioniso Dioniso vige ecco una grande libertà ecco perché per esempio gli attori tutto il mondo del teatro rivendicano il diritto di pronunciare edipo in luogo di edipo e Dioniso in luogo di Dioniso e del resto lo sconisce Cleopatra quindi insomma chiudiamo questa parentesi di pedanteria e cerchiamo adesso di passare al Dioniso Ficarra perché in effetti è un aspetto interessante anzitutto spiegaci qual è il rapporto che c'è fra te e Dioniso Ficarra che non è soltanto non si limita semplicemente al rapporto della professoressa professora direttora di letteratura greca ma che riguarda anche un impegno particolare nella diffusione di una serie di messaggi a quello che è il mondo attuale e contemporaneo raccontaci sì quella con Ficarra e Picone con la coppia Ficarra Picone perché è una coppia inscindibile così come nelle rane Dioniso non può esistere senza il suo servo Santia così Ficarra non può esistere senza Picone e viceversa così come Antigone non può esistere senza Creonte evidentemente il mio rapporto con Ficarra e Picone è stato appunto è stata un'esperienza molto interessante molto divertente ecco dalla quale devo dire io ho imparato molto perché ho imparato innanzitutto in che contesto ci troviamo cioè contestualizziamo ci troviamo a Siracusa sì questo ho messo di dirlo ci troviamo a Siracusa nella primavera dell'ormai lontano 2017 quando appunto per quell'anno la stagione teatrale dell'inda dell'istituto nazionale del dramma antico aveva previsto di mettere in scena oltre a due commedie oltre a due tragedie scusate genere insomma la tragedia la fa da padrona nel teatro greco di Siracusa perché il genere serio per Antonomasia poi questo diciamo chi mi piacerebbe parlare diciamo perché rivendico a forti a gran voce la serietà del genere comico e non solo perché studio la commedia ma perché la commedia la commedia di Aristofano è una commedia serissima ebbene nell'estate nel primavera estate 2017 nel teatro greco di Siracusa furono portate in scena era nelle vesti nei panni di Dioniso e Piccone era nei panni del suo servo Santia e lì abbiamo avuto insomma ci siamo iniziato un rapporto anche una frequentazione che è passata attraverso la lettura del copione ma anche attraverso una riflessione diciamo delle dinamiche drammaturgiche di questo testo cioè Piccone sono due comici e due grandi professionisti del comico e si sono posti il problema di come far ridere il pubblico cioè di come una commedia del quinto secolo della fine del quinto secolo d'anticristo peraltro non sono una commedia antica perché diciamo di commedia antiche ce ne sono ci ne trovano nel teatro latino Plauto Terenzio ma anche nel teatro greco avremmo le commedie di Venandro ma come far ridere il pubblico attuale il pubblico è un pubblico eterogeneo vasto evidentemente non un pubblico di grecisti o di studiosi in un grande teatro quale quella di Siracusa come una commedia di Aristofane cioè il diciamo un commediografo che già Plutarco in età imperiale tra il primo secondo secolo non non capiva più non apprezzava più Aristofane già non piaceva più a Plutarco Plutarco diceva che i testi di Aristofane erano illegibili incomprensibili non facevano ridere non solo pieni di oscenità di volgarità erano inconcludenti avevano delle trame surreali e diceva una cosa interessante Plutarco questo lo diceva sia in un passo del diciamo dei moralia sia in una che non è una vita parallela ma è come se lo fosse perché la comparazio tra Aristofane e Menandro e in questi due passi Plutarco si interrogava su su questo fatto cioè come può piacere ormai a distanza di secoli e stiamo parlando di un autore di età imperiale come possa ancora piacere come possa ancora far ridere un commediografo come Aristofane di cui non si capisce nulla cioè nel senso che è pieno la sua comicità è intrisa di riferimenti all'attualità contemporanea alla vita dell'Atene proprio di quei giorni lì cioè della della dei pochi giorni prima della rappresentazione ci sono delle parolacce colorite sì ci sono parolacce colorite ci sono allusioni riferimenti c'è satira politica satira basata sulla stretta attualità sulla scottante attualità proprio dei giorni delle settimane che precedevano la messa in scena e quindi con non semplicemente allusioni io ho detto allusioni ma sarò ancora più esplicita cioè attacchi diretti ad personam contro personaggi pubblici personaggi più in vista dell'Atene contemporanea contro i demagoghi quelli che diciamo governavano la polis democratica in quei in quegli anni in quelle settimane in quei mesi anche dei giorni in cui si svolgeva la rappresentazione e Aristofane non le mandava a dire cioè li ricopriva di insulti e insulti appunto pesantissimi all'epoca quindi non c'erano le querele come ora quindi basta alludere alcuni comportamenti di certi politici e arriva subito la querela cosa succedeva allora dunque allora diciamo per quello che sappiamo noi è perché poi noi non sappiamo tutto e soprattutto della commedia non sappiamo molto sappiamo molto di più della tragedia che genere appunto come dicevo prima più serio più importante sin dall'antichità noi sappiamo che probabilmente prima della messa in scena avveniva una specie di pre diciamo un'anteprima dinanzi a una giuria formata dai magistrati ateniesi che valutavano la opportunità di portare in scena quella commedia o meno ma questo non significa che poi magari appunto poi commediografo una volta che andava in scena non si prendesse le sue libertà e quindi una volta andato in scena il commediografo si lasciava andare al turpiloquio agli attacchi personali senza ritegno senza pudore e senza timore di appunto di incorrere poi nelle famose querele quindi diciamo il tema della censura che pure esisteva nel teatro dell'Atene degli ultimi decenni del quinto secolo è un tema diciamo tutto da studiare tutto da discutere perché c'era e non c'era apparentemente c'era ma nei fatti non c'era anche perché la polis democratica le istituzioni magistrati che governavano la città di Atene consentivano ai commediografi quella libertà di parola era come se fosse un gioco delle parti per cui diciamo Atene celebrava la sua libertà democratica lasciando la libertà di parola ai comediografi. Ma all'atto pratico nella rappresentazione portata avanti da Ficarra e Picone dove c'è stato naturalmente poi insomma una serie di complici fra cui tu sei una diciamo una complice particolare e che cosa è successo perché certamente non c'è stata una modernizzazione spinta c'è stata qualche naturalmente elemento che ha permesso di agganciare più facilmente il pubblico però mi sembra di capire che i miei diciamo compatrioti nel senso di Patrice perché sono palermitano anch'io hanno hanno tenuto particolarmente a mantenere la la commedia cioè senza fare troppi strappi. Come ora sembra anche il caso insomma c'è anche un po' la moda e questo naturalmente non soltanto per il teatro antico ma per altri tipi di rappresentazioni. Che cosa è successo? Dunque sì quando abbiamo lavorato su questo testo per la messa in scena perché ovviamente una traduzione scenica è cosa diversa da una traduzione pensata per la stampa quindi filologicamente rigorosa ci siamo chiesti se attualizzare o meno i nomi di tutti questi personaggi politici alcuni dei quali devo dire ignoti anche a noi diciamo nomi abbastanza sconosciuti anche nella nella esegesi antica quindi diciamo alcuni sono molto noti altri un po' meno altri non sono affatto e ci si è chiesti appunto che fare di questi nomi che fare di queste battute squisitamente politiche. Ci abbiamo pensato un po' abbiamo anche provato a fare il gioco degli abbinamenti no? Cioè a ciascun politico far corrispondere un politico attuale. Dopodiché ci siamo detti e lo stesso regista corsetti ha preso alla fine questa decisione che qualunque forma di attualizzazione sarebbe risultata alla fine una banalizzazione ma soprattutto avrebbe reso quello spettacolo effimero tanto quanto effimera era lo spettacolo di Aristofane nei giorni in cui Aristofane lo portava in scena cioè a distanza già di un mese già il testo di Aristofane era superato. E se vogliamo anche un po' kitsch oltre che effimero. Anche un po' kitsch appunto diciamo banalizzante e effimero perché tra l'altro conosciamo anche la come dire le dinamiche della vita politica italiana e anche non soltanto italiana sappiamo che da una settimana all'altra cambia tutto no? Sappiamo che è un quotidiano diciamo il giorno dopo è già vecchio. Certo e poi sono anche passioni politiche diverse perché io a dire questo sono andato anch'io ma ci sono andato da liceale cioè mi ci portava alla scuola una volta vedi proprio le rane però con Buazzelli e un'altra e un'altra un'altra volta quello l'anno l'anno precedente c'era una rappresentazione delle troiane dove alla fine c'erano dei dei megafoni che parlavano del problema della dittatura dei colonnelli in Grecia che insomma all'epoca era gli sgoccioli ma c'erano tutti e all'epoca mi ricordo che c'era questo professore di filosofia che insegnava a Palermo e che cercava di rifarsi una virginità politica a destra Armando Plebe che scriveva su il borghese si faceva chiamare il professore e lì si era preso a morte con quello che all'epoca curava la l'aspetto scientifico delle rappresentazioni di Siracusa che era il professor Giusto Monaco quindi che insegnava anche a Palermo e l'aveva trattato proprio da scimmione era naturalmente un riferimento a romagnoli Miermo Scimmione che richiamava naturalmente un altro personaggio che durante il fascismo a Siracusa aveva fatto il bello e il cattivo tempo quello quello che è interessante è capire come anche questo questo tipo di spettacoli possono anche conoscere una fortuna di tipo diverso a seconda del periodo in cui vengono rappresentati quindi abbiamo e quindi volevo chiedere giustamente in quali quali sono le prospettive non dico soltanto per Siracusa ma per la possibilità effettivamente di diffondere questo tipo di modello e cercare a un certo momento di insegnare cose nuove oggi abbiamo appreso molto su Antigone e lì io temo che il nostro pubblico sia un pubblico di appassionati al mondo classico sarebbe bello che ci ascoltassero anche quelli che sono meno appassionati ma ci sono tantissimi altri aspetti miti e altri oggetti di che potrebbero effettivamente dirci una cosa quali sono le tue idee ad esempio per il futuro e che cosa potremmo rappresentare che quali opere potremmo rappresentare diciamo quali miti ma allora il mito è un bagaglio inesauribile anche i miti diciamo i miti minori i miti della antichità sono una miniera per noi perché ciascuno di noi può leggere all'interno di un mito rileggere la propria storia la propria vita la la storia della 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 propria famiglia della propria nazione cioè tutti i miti parlano secondo me bisogna lasciarli parlare per quelli che sono cioè non ci sono miti più importanti i miti meno importanti però bisogna lasciar parlare i miti non cioè ripeto le rivisitazioni le rivisitazioni attualizzanti sono sempre inevitabilmente tendenziose e idealizzanti e inutilmente inutilmente idealizzanti questo mi ricorda mi concedo un un ultimo a marcord sempre a proposito di questa rappresentazione delle rane con guazzelli mi ricordo che accanto a me c'era un un mio compagno di classe che adesso è un serio giurista e lui era talmente fomentato che mi sa ma io come mi piacerebbe vivere nel quinto secolo avanti cristo all'epoca per quanto io apprezzarsi già insomma il mondo classico ho fatto un liceo classico e poi ho fatto studi classici ero piuttosto così perplesso da questo aspetto ma però già che ci siamo io vorrei che tu rispondessi a una domanda che mi sono posto proprio adesso ritornando a questi miei anni di liceale in cui eravamo ingenui però imparavamo tante cose e questa storia è l'Apollino e il Dionisiaco ma è una è una balla o no? Beh anche lì sono Apollo non può esistere senza Dioniso e viceversa sono sono fratelli ecco sono due facce della stessa medaglia dentro di noi e dentro ognuno di noi c'è l'Apollino e il Dionisiaco quindi anche questo direi che non insomma non sì diciamo lasciamo parlare Nietzsche su questo ma ecco noi che siamo tardi e pigoni io per quanto riguarda noi ecco io mi terei lontana da queste queste che inevitabilmente diventano delle categorizzazioni un po' banalizzanti quindi c'è proprio Tra i commenti c'è chi ci fa notare che la pace non è mai stata rappresentata e lo so l'ho letto potrebbe essere un'idea ma la Siracusa diciamo è difficile entrare nei penetrali dell'istituto nazionale del dramma antico quindi loro decidono sulla base di logica probabilmente spesso si decide anche in ragione delle disponibilità degli attori dei registi la pace comunque è una delle commedie che già nell'antichità era ritenuta tra le meno riuscite di Aristofane perché c'è anche un problema di questo cioè l'efficacia drammaturgica di questi testi mentre la pace effettivamente è un po' disorganica il tempo sta continuando a scorrere e a questo punto noi dobbiamo fermarci con grande rammarico sia mio che di Nunzia la Lontra che ha molto apprezzato tutta questa conversazione e vorrei chiudere insomma con un'ultima domanda a questo punto abbiamo parlato delle nostre categorie ci siamo presentati che cos'è per te un antichista o che cosa dovrebbe essere se preferisci? Allora un antichista è se posso anche qui usare una categoria banalizzante in essenzialmente uno storico cioè uno che lavora a ricostruire la storia delle parole dei testi e di tutti i documenti di quello che un tempo si chiamava la cultura materiale pensiamo appunto all'archeologia all'epigrafia quindi si cerca di ricostruire la storia del passato attraverso questa documentazione che è di varia natura naturalmente questo passato è rimedialmente perduto è lontano quindi quello che fa l'antichista è uno sforzo costante continuo di ricerca di interpretazione che non approda mai alla verità quindi un'indagine che resterà sempre destinata probabilmente a restare sempre in evaso e tuttavia è anche una straordinaria palestra intellettuale per tutti voi. direi proprio di sì e insomma con queste questa ultima osservazione pensiamo dunque il deus ex machina non è arrivato ma non importa insomma ci sarà un po' lo attendiamo a proposito di per tornare con diciamo movimento anulare abbiamo parlato di Antigone io vorrei spezzare una lanta in difesa di Creonte il povero Creonte così distrattato Creonte è quello che ha diciamo anche contro i suoi stessi sentimenti personali perché poi si vede morire una nipote che è Antigone e un figlio che è Emone appunto quindi anche lui è un personaggio estremamente tormentato tutt'altro che tetragono e monolitico come invece in genere appunto nei manuali di storia letteraria si legge ed è soprattutto il garante della democrazia cioè il garante delle leggi scritte quindi è il garante della democrazia di fronte e di contro a un Antigone che diciamo si è ostinatamente diciamo avvinghiata a una a uno ius francamente arcaico quello ius contro l'alex uno ius arcaico che come dicevo prima ha a cuore la continuità maschile della dinastia perché Creonte essendo in fondo il fratello di Giocasta è come se fosse una una sorta di usurpatore opportunista del potere quindi diciamo rivendichiamo io diciamo mi spezzo una lancia a favore del povero Creonte che è sempre visto sotto una luce sinistra a fronte dell'eroina Antigone che è vista appunto come il simbolo appunto del femminismo o o della ribellione contro il potere addirittura è diventata un'icona del terrorismo per esempio nel negli anni settanta fine settanta in Germania ecco questo solo approfittato di questi due minuti ma tu forse mi volevi chiedere qualcosa? Sì sì a ciascuno la sua Antigone insomma e quindi e questo mostra ancora una volta eh l'importanza di chiamarsi antichista eh salutiamo eh eh tutti 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 voi noi ci ritroveremo fra due settimane con un altro ospite a cui persone la cui identità sarà svelata soltanto all'ultimo momento grazie ancora a Olimpia Imperio e speriamo di ritrovarci presto a Siracusa o eh da qualche altra parte quando finalmente finirà questo eh no stavo per dire stato di eccezione no 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 grazie a tutti a presto grazie a Giusto Traine grazie a tutti tutti voi che ci avete ascoltati buona serata grazie a tutti